Nell'ambito dell'applicazione della direttiva emanata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali, la provincia di Savone ha organizzato nella sede di Palazzo Nervi il corso per ispettori dei ponti e viadotti di primo livello. Si tratta di un percorso di formazione suddiviso in tre giornate, 9, 10 e 11 maggio, rivolto ai tecnici che si dovranno occupare del censimento di ponti e viadotti presenti lungo le strade. La vicepresidente della provincia Luana Isella ha ricordato che nel territorio savonese ci sono oltre 470 strutture interessate dalla direttiva ministeriale e per questo il tema dei trasporti eccezionali della sicurezza dei ponti è molto importante a tutela della sicurezza e dell'economia del territorio. Il corso organizzato a Palazzo Nervi risponde a questa esigenza, ovvero formare ispettori di ponti e viadotti con professionalità fondamentali per muoversi sulle strade in sicurezza e rappresentare anche un'opportunità di lavoro per quei tecnici chiamati a formulare pareri di transitabilità comportate, certificate.